Che vi scappa la pipì e non sapete dove andare? Bene, la riflessologia facciale vi aiuta. Premete per 30 secondi qui il mento e vedrete che veramente lo stimolo della pipì vi sparisce per 30 secondi, perché questo rappresenta proprio la vescica, quindi 30 secondi e lasciare. Se invece avete dei blocchi urinari e volete andare a fare la pipì, fare dei movimenti dall'alto verso il basso sempre per 30 volte. Grazie e buona giornata!